La polizia stradale non conquista la fiducia degli italiani solo stando amichevolmente al loro fianco sulle strade, come raccontano queste foto scattate durante la lavorazione del film del 1952 Bellezza in motoscooter. Ma anche perché dal 1947, dalla sua fondazione, la stradale consente di svolgere in piena sicurezza un evento che ogni anno coinvolge tutti gli italiani. Il Giro d'Italia. Di quali mezzi e di quanti uomini è composta la sezione che lei comanda, tenente? La sezione che comanda è composta di 20 motomezzi e di due automezzi dotati di radiotelefono. È composta di 20 guardie, 4 sottufficiali e 2 ufficiali. Quali sono i compiti assegnati a questa sezione? I compiti specifici sono quelli del mantenimento dell'ordine sia nella carovana che il pubblico, ovvero che assiste al passaggio della carovana.